Grilla Frontiera. Quando è stata l'ultima volta che ho giocato a un gioco che non fosse schifoso? Questo è un mondo nel prossimo futuro in cui i giochi che utilizzano schermi sono classificati come retro. Tutto ciò che non riesce a tenere il passo con la tecnologia Verona all'avanguardia viene chiamato gioco di merda e vedi uscire un gran numero di giochi di merda. Coloro che dedicano la propria vita a risolvere questi giochi sono chiamati cacciatori di merda. Il prossimo gioco che ha scelto di affrontare è Shangri La Frontier, un gioco di livello divino che conta un totale di 30 milioni di giocatori. Amici online, un mondo vasto, incontri con rivali. Questi stanno cambiando il destino di Rakuro e di tutti gli altri giocatori. La migliore avventura di gioco del più forte giocatore di Crap Game inizia ora. Molto bene. Crankyroll? Risentiamo. Fonte, Crankyroll. Crankyroll, mi piace, mi piace Crankyroll. Ora, Shangri La, Shangri La. Cosa so di Shangri La? So che è un anime abbastanza decantato. Vi posso dire questa cosa, quando sono stato in Giappone settimana scorsa stava ovunque. Pubblicità di sto cazzo di anime dappertutto. E credo che sia perché è un anime simile a Sword Art Online, ovvero dove il protagonista viene teletrasportato. Va in un videogioco e si trova all'interno di un videogioco. In più è una roba fantasy, quindi in Giappone tira un botto sta roba. Stava veramente pubblicizzato come fosse Attack on Titan. è fatto da studio C2C, che è lo studio di Andyman, reincarnato in una spada, Wandering Witch, quindi uno studio onesto. I tag sono mondo virtuale, videogiochi, protagonista maschile, shonen, isekai. Anche qua. Sì, dai, isekai, alla fine se pure Sao dicono che è un isekai, pure questo sarà isekai. Azione, avventura, commedia, fantasy. Poi bisognerebbe capire se il protagonista rimane bloccato nel mondo fantasy, non credo. Non credo che sarà come Sword Art Online, penso che lui semplicemente gioca nel mondo, poi esce, slogga, rilogga, fa come cazzo gli pare. Il protagonista è questo piccione, questo tizio con la faccia da volatile, e andiamo a vedere chi è l'autore di questo incredibile anime. Ryusuke Fuji. Ah, ha fatto qualcosa in Fairy Gon, e basta. E un'illustrazione di Bakemonogatari. Vabbè, diciamo che la sua opera principale è solamente Shangri-La. Cara Design. Ok. Megalobox? Megalobox. Ok. I Devilman Cry Baby. Vabbè, ha fatto parecchia roba il cara designer di Shangri-La. E magari, così tanto per, se troviamo quello che ha gestito le musiche, forse è lui, musica? No, Monakai Japanese Music Production Studio. No, questo qua penso sia per l'opening. Vabbè, sarà lui. E... Cominciamo, dai, vediamo un po'. Vediamo un po' questo primo anime come se la cavicchia, come se la cavicchia. Allora, regà, guardate, sarò onesto con voi. Non me l'aspettavo. Sinceramente, non me l'aspettavo che Shangri-La sarebbe stato così. Mi ricordo che c'erano forse più persone che parlavano bene di Undead rispetto che di Shangri-La. Però forse anche Shangri-La aveva un nutrito gruppo di fan che più o meno nel corso del tempo mi avevano di persone che mi avevano detto che era bello, che meritava e tutto quanto. Posso dirvi, secondo me, l'adattamento che questo studio che sarebbe, andiamo a rivedere, l'adattamento che ha fatto C2C, a me sembra ineccepibile. Cioè, mi sembra che hanno fatto in questo primo episodio un lavorone della Madonna. Ma veramente era fatto di Cristo, sto episodio. Ma sì, a livello qualitativo generale di disegni, animazioni, ma la regia, gli scontri, oh. Ma mi hanno reso avvincente lo scontro col Goblin e col Coniglio, che è roba che non lo si vede in non so quanti anime, una roba così figa. Poi con le parti a rallenti, la telecamera che si sposta per inquadrare da vari punti quello che sta succedendo. Era fatto veramente bene, sto primo episodio. Ora, il mio unico dubbio è che sia solo un primo episodio bait, cioè la solita cagata, il primo episodio pilota, che ti deve attirare l'attenzione, quindi ha una qualità spropositata, poi i prossimi episodi inizia a calare sempre di più. Però, se mantenesse questa qualità qua, è veramente un adattamento della Madonna. I mostri, nessun mostro in CGI, i disegnati di Cristo. In generale, poi, appunto, pure i personaggi sono bellini, le OST pure sono abbastanza fighe, anche se ne abbiamo sentite poche in questo episodio. Abbiamo sentito giusto qualche OST degli scontri contro il Goblin e contro il Coniglio, che comunque non erano male. Opening e ending della Madonna, soprattutto l'opening, l'ending un po' di meno. Quindi, di base, si presenta come un anime non propriamente, come dire, innovativo, perché, vabbè, semplicemente la storia di uno che entra in un mondo, in un videogioco, e gioca a quel videogioco, quindi un classico MMO, però l'adattamento è fatto benissimo, e, per di più, a me il protagonista mi piace. A me il protagonista, non so voi, ma mi sta simpatico. Cioè, non mi sembra il classico coglione, o che sia né stupido, né rincoglionito, mi sembra... semplicemente a lui gli piace giocare ai videogiochi di merda. Trova... cioè, è un videogiocatore appassionato, mettiamola così. Cioè, un videogiocatore appassionato che fa quello che vuole, ovvero giocare ai videogiochi, senza cose particolarmente strane o stupide, se non questa cosa di voler completare i giochi brutti, che comunque non la trovo una roba così senza senso. Quindi... ma, per ora posso dirvi, forse è giusto di design, non è che mi ispira molto lui, ma credo che lo vedremo poco. Cioè, credo che vedremo molto di più la sua controparte da piccione nel gioco, piuttosto che lui come persona vera e propria. E... anche a livello di spiegazioni, per quel poco che abbiamo visto, insomma, hanno spiegato le cose che dovevano, niente di incredibile per ora, però... ma mi sembra fatto molto bene. Cioè, un buon primo episodio, un buon primo episodio. Un po' tutti gli anime con qualità di merda, chi se li incula, tipo Jujutsu, che vuol dire? Jujutsu mi ha supportato alla prima senza qualità... Ah, dici che... Ecco, sì, se vogliamo buttarla in questi termini, se questo primo episodio avesse avuto una qualità scadente, non parlo di qualità normale, ma proprio scadente, effettivamente avrebbe reso molto meno. Il fatto che sia stato fatto così bene, per forza di cose, gli fa avere un plus. Cioè, quindi, ovviamente... ripeto, storia, personaggi, ambientazione, è tutto molto basic di Shangri-La, per quello che abbiamo visto. Però, sembra fatto bene. Cioè, sembra. È fatto bene e quindi acquisisce dei punti in più. Quindi, secondo me, non è che c'è neanche troppo da dire su questo primo episodio a livello di quello che succede, perché è veramente una roba terra-terra. Però, se continua così, cioè se l'adattamento continua in questo modo, poi, non so, a livello di scontri, cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi, cose di questo tipo, però le potenzialità, dopo questo primo episodio, ci sono, a livello di un anime, come dire, che fa il suo. Sì, pure io mi aspettavo una cagata. Cioè, questo è il fatto. Io, personalmente, avendo visto il trailer... In realtà, il trailer già si vedeva che era fatto bene, eh, per carità. Però, ogni tanto i trailer tendono anche un po' a scammare. Però, posso dirvi che un pochino mi aspettavo una mezza cazzatina, e non capivo, infatti, perché in Giappone lo pubblicizzavano così tanto quando, appunto, ci sono andato settimana scorsa. Però, se lo merita. Cioè, almeno per questo primo episodio, l'hype che ha avuto, e che ha tuttora in Giappone, penso se lo sia meritato. Secondo me, alla lunga stuferà. Probabile, sai? Se ripete sempre quanto è bello questo gioco. No, vabbè. Credo che ripeterà sempre questa cosa. Il fatto, appunto, è che non so bene come potrebbe... Non credo che una storia di questo tipo potrebbe offrire chissà che cosa. Cioè, non è come in Sword Art Online, che viene intrappolato nel mondo, rischia di morire qua. È un semplice gioco. Lui si ritroverà ad affrontare sempre boss più potenti, sempre mostri più potenti. Poi, nel finale, vediamo che arriva pure la tizia in armatura, che non so se è questa ragazzina qua, o se è un altro personaggio a caso, ma comunque credo che l'uccellomo si creerà il suo party, che forse, se vediamo dalla Key Visual, intuiamo pure chi saranno. Infatti, eccoli qua. Allora, il party dell'uccellino saranno il coniglio, che vediamo nel teatrino, l'armatura, il tizio in armatura, che io ipotizzo, ve la butto là, è la sua amica, che forse non si vuole far vedere, e le altre due tizie... Basta, quindi, per esempio, sarà un party di tre waifu, principalmente. E sì, comunque, le altre due tizie, altre due waifu fighe a caso. Quindi, credo che appunto questo sarà più o meno il suo party. Se adattano bene le fight migliori del manga, potrebbero veramente fare un lavorone. No, no, ma infatti, questo qua, quindi, mi dà l'impressione di un anime che, per come si presenta, fa assolutamente il suo. Se continueranno così con l'adattamento, sarà un anime molto solido, cioè un fantasy MMORPG, probabilmente tra i migliori, che ci sono di sicuro negli ultimi anni. Di sicuro negli ultimi anni. Poi, tra tutti gli MMORPG anime, non lo so, perché non è che ne ho visti così tanti, però comunque non mi sembra che sia un anime che meriti più di sette e mezzo, otto. Cioè, parliamoci chiaro, anche questo primo episodio, se non fosse stato per la qualità, probabilmente manca arrivava a sette. Se non fosse stato per questa qualità, molto molto bella. Quindi, io vi direi, come primo episodio, sette e mezzo. Otto meno, se proprio uno vuole essere gentile. In Giappone piace, ovviamente, anche la light novel di I'm in Love, vende la Madonna anche in altri paesi, ma l'anime è fatto di merda e non se lo incurano in molti. Vabbè, ma è normale. All'estero, se un anime è fatto male, non è come in Giappone. È normale che non se lo incuri nessuno. Secondo te Shangri-La può essere considerato un Isekai? Allora, io... Ecco, per quanto riguarda questa questione degli Isekai, io sinceramente reputo essere un Isekai, un anime in cui, sì, viene trasportato in un altro mondo, però non è una cosa, secondo me, così banale come entro in un videogioco. Perché, altrimenti, appena arriveranno i VR, e quindi una persona si mette il VR e entra all'interno di un videogioco, è come se tutti fossimo stati Isekaizzati. Non la vedo in questo modo, io la vedo più come un teletrasporto, proprio tutto il tuo corpo viene teletrasportato, o la tua mente viene fatta rinascere in un altro mondo. Nel caso di, ad esempio, Sword Art Online, già è un po' diverso, perché il protagonista si ritrova con proprio tutta la sua mente intrappolata nel corpo di dove gioca, ed è effettivamente intrappolato in quel mondo. Cioè, diventa a tutti gli effetti, soprattutto non tanto il primo Sword Art Online, quanto molto di più Alicization, perché Alicization è pure, addirittura, un mondo a sé stante. Cioè, con gli NPC, che è come se proprio fosse un mondo normale, non è neanche più tanto un videogioco. Però, ci posso ancora stare che la prima stagione è considerata un Isekai. Questo qui, probabilmente lo è, perché alla fine lui va in un altro mondo, che è un videogioco, a me non verrebbe da considerarlo un Isekai, Shangri-La, sarò sincero, a me non... Probabilmente lo è, cioè, per la definizione di Isekai lo è, però io non lo considererei così tanto un Isekai. Bluelock baitava all'inizio, facendo credere che delle scene erano fighe, quando erano fatte di merda. Poi a calcio trattato in modo originale. Ma guarda, Bluelock, sinceramente, i primi episodi non è che fossero chissà cosa, Cioè, se mo' vogliamo fare sto paragone dicendo, pure Bluelock sembrava bello, poi è una merda, no, Shangri-La è molto meglio, è partito molto meglio di come è partito Bluelock. Cioè, io me lo ricordo il primo episodio di Bluelock, sì, non era male, però non era a stile belli, questo è molto meglio, è abbastanza meglio rispetto al primo episodio che era quello di Bluelock, poi vabbè, sappiamo che fine ha fatto. Sai, è una merda, però non possiamo negare che ha fatto scuola di questo genere. Sì, sì, assolutamente, infatti, giusto per dirvi, su World Art Online ancora, sarà che lo stanno continuando a spremere all'infinito quel cazzo di anime, ma in Giappone ancora va molto forte, si trova ovunque su World Art Online, anche se a me non piace. Detto questo, io non so se Shangri-La può essere quell'anime che supera su World Art Online, non credo, però staremo a vedere, staremo a vedere. Quindi voi gli date 8,18, io rimarrei su un 7,5, perché ripeto, per quanto sia stato bello avvisivamente, non era, non è un bel concept, non è originale, non c'ha nulla di più rispetto alla qualità molto buona, e al protagonista che alla fine non è un cazzone, cioè mi sta simpatico più o meno il protagonista. Ma che è sto 16-bit? Che cazzo ne so? Ma vi giuro non lo so minimamente cos'è. Fammi vedere cos'è. Vediamo un po' la trama, vediamo un po' la trama, quanto cazzo è lunga la trama? Vabbè, capiamo un attimo, capiamo un attimo cos'è sta roba. Sensation Another Layer Ma perché? Konoha Kisato is an illustrator that loves beautiful girls Ma perché? Ma è tradotto! Sensation Another Layer Is an illustrator Sensation Vabbè, vaffanculo. È un illustratrice che chiama le belle ragazze giochi biscioggio. Il suo sogno è diventare un illustratrice super popolare, quindi lavora duro presso una società di produzione. Un giorno il proprietario del negozio gli regala un classico gioco biscioggio con tutta la sua eccitazione, apre il pacchetto e viene avvolta da una luce brillante. Si rende conto di aver appena viaggiato indietro nel tempo. Un giorno il proprietario finisce nell'anno del 92. È l'alba dell'era dei giochi biscioggio. Konoha finisce per lavorare in una società chiamata Alcohol Soft e riuscirà a pensare, disegnare e creare tutte le bellezze che ha sempre desiderato. La storia di una ragazza e del suo travolgente amore per le belle ragazze. Ok. Tra l'altro questa qua mi sembra una tizia di Saekano. Quindi stiamo parlando della storia di una disegnatrice di giochi bisciogli, di giochi per ragazze. Allora, lo studio è il studio Silver che ha fatto We Never Learn, ha fatto un Entai. Molto bene, molto bene. Ha uno storico molto grande, questo studio. Nei consigliati ci stanno infatti Saekano e Remake of Our Life. Cute Girl, Manipolazione del Tempo, Videogiochi, Otaku, ragazze carine. Vediamo il creatore, Misato Mitsumi, che ha fatto... Oddio, se aveva fatto Oreimo, regà, non lo vedevamo sto anime. Ha fatto Land Card di Oreimo, quindi va bene così. Vabbè, ha fatto poca roba, questo Minami. Andiamo a vedere il cara design. Uh, il cara design di The World God Only Knows. Questo è carino. Cioè, The World God Only Knows non mi dispiace. e per finire il Sound Director, anzi no, la musica, dovrei vedere lui, Kota Kobayashi. Ma io ogni volta, non so, ma devo vedere music o devo vedere art Sound Director? Secondo me non è il Sound Director, devo vedere la musica. Ehm, comunque, non lo so, non mi ispira troppo, mettiamola così, però... Diamogli, diamogli una possibilità. Diamogli una possibilità. Che dire, signori, 23 minuti di pura poesia. Anime molto, molto, molto dimenticabile. Non mi è piaciuto. Una noia mortale. Probabilmente, cioè, praticamente questo primo episodio... Ma più che altro perché l'unico plot twist che avrebbe reso l'episodio interessante già lo sapevamo. Cioè, il fatto che lei andava nel passato sarebbe veramente stata l'unica roba che la vedevi e dicevi mazza figo. E invece, appunto, già la sapevamo. Poi, parliamoci chiaro, il modo in cui lei torna nel passato molto... proprio il classico tipo roba da Isekai a cazzo di cane. Roba strana che non ti spieghi che apre la cosa esce la luce. No, per quanto mi riguarda non ci siamo. L'unica cosa decente di questo episodio è la protagonista che è un po' caruccia anche se come alcuni di voi avevano detto magari un po' fastidiosa. A me in realtà non mi ha dato fastidio. Poi, per il resto, comunque, qualità generale ambientazioni, disegni e tutto quanto dimenticabile. Niente di... Non è brutta, eh. Non è brutta, però insomma, niente di particolarmente incredibile. Diciamo anche come trama è un po' tutto. Mi sembra tutto un po' noioso. Quindi non... Non lo continuerei. Questo anime non lo continuerei come primo episodio. Boh, cioè, ripeto, se escludiamo la cosa di lei che torna indietro nel tempo molto dimenticabile. Quindi... Non l'avrei visto. Non l'avrei visto a saperlo questo primo episodio qua. Andando velocemente perché secondo me veramente non c'è molto da dire. 16 bit sensation come primo episodio come voto probabilmente gli darei in 5 e mezzo. E... E si abbracciamo. Non... Cioè, ma non lo so se vedete se devo tirare fuori delle cose positive togliendo le reference che io... Non so come mai le persone si eccitano ogni volta che in un anime o in un film vedono reference a altri anime o altri film. Per carità, un anime tranquillo. Non è... Non è una merda, eh. Che lo guardo e dico brutto. Però... A me è abbastanza annoiato quindi non... non lo continuerai mai. 5 e 97 il vostro voto. Il vostro 5 e 97 io vi confermo il 5 e mezzo. E ora... Uno, volendo cosa si può aspettare da questo anime? È in realtà bella domanda nel senso... Come dice anche il tag dell'anime ragazze carine che fanno cose carine alla fine del finale abbiamo visto che a livello di waifu l'anime ne è provvisto quindi parlerà di questa ragazza qua di Konoha o come si chiama che progetta giochi biscioggio in questo gruppo di liceali di ragazzi del liceo o quello che sono dove ci stanno queste ragazze carine ci saranno situazioni carucce però roba che io penso dopo 2-3 episodi mi... In realtà già questo primo episodio mi va abbastanza annoiato credo che non reggerei 2-3 episodi quindi... Per carità non è orribile però neanche chissà che In generale non mi è dispiaciuto ci sta come idea poi non saprei come potrebbe svilupparsi se vogliono solo sviluppare il gioco o parlare di anime di altre tematiche legate ai videogiochi Poi non ho ben capito in che senso ti è piaciuto come idea cioè il fatto che lei torna lei è una programmatrice di giochi che torna indietro nel tempo Sì però non lo so è anche affrontato cioè non mi sembra comunque un anime che lo affronta troppo dal punto di vista del videogioco di per sé cioè mi pare più improntato su far vedere cose carucce tranquille diciamo che in questo primo episodio a parte vedere la protagonista che attacca i pipponi sugli shoujo che gli piacciono non mi è parso che hanno tirato fuori chissà quali considerazioni o robe interessanti sull'ambiente videoludico giapponese quindi non so se è un anime improntato verso anche un po' quella cosa lì ecco ricorda molto Bokutashi esatto esatto se vogliamo infatti nei tag di questo anime appunto ci sta anche Bokutashi no remake remake our life dove in realtà però era un po' diverso perché loro oddio loro che facevano creavano videogiochi non mi ricordo se creavano videogiochi o cos'altro però Bokutashi l'ho trovato molto più interessante cioè come concept anche il tipo di approccio che aveva mi è piaciuto molto di più infatti gli ho dato 7 più gli ho dato cioè questo questo anime qua mi dà l'impressione di essere un anime da 6 6 e mezzo tie ma molto meglio Bokutashi le streghe una volta benedivano la razza umana con saggezza e pace ma l'espansione dell'equipaggiamento dell'impero Rydia portò con sé una cultura della scienza che superò di gran lunga la magia e le streghe furono viste come nemiche che ostacolavano il progresso della civiltà inizia così la caccia alle streghe un essere umano di nome Adonis cresciuto da una strega di nome Chloe giura vendetta contro la razza umana che gli ha portato via il suo amato mentore quale salvezza si può trovare alla fine di un bagno di sangue alimentato dalla disperazione più totale ok comunque se vi ricordate è una sorta di come dire combattimento tra esseri umani e streghe maghi o in realtà no principalmente streghe è particolare di sicuro è particolare questo è in dubbio la ki visual ha anche dei personaggi che non è che mi ispirano molto sarò sincero tipo questo cowboy con le trecce lunghe non lo so un po' strano i tag sono ah intanto lo studio è yokohama animation lab che ha fatto the witch and the beast ah no ha fatto the great cleric ha fatto the genius prince l'anime delle cosce e ha fatto vabbè poca poca miru tides attenzione miru tides allora è un vendetta magia streghe gore senza tetto protagonista maschile urban fantasy urban nudità nei consigliati ci sta akame ga kill attenzione e l'autore è questo yoruashi che ha fatto solamente the kingdom of ruin e questo kokusan shoujo cara design alla musica la fa ana e nakamura uh si è occupata di quintessential e ok è stata quella che ha fatto adash e shimamura non ce la vedo molto bene con questo anime cioè non ho capito bene il collegamento però vabbè ha fatto roba roba insomma con anche my next life as a villainess dove sta ecco il cara design è hiromi kato che ha fatto il cara design di molta roba the gobby slayer yina cabaneri l'animation director guilty crown attack on titan un episodio ci sta ci sta va bene mo vediamo di cosa parlerà sto anime qua io ho delle aspettative positive anche se sembra un po' strano sembra un pochino particolare ma ho buone aspettative quindi stiamo a vedere stiamo a vedere come stavo dicendo tutti i primi 16 minuti praticamente serissimi tristissimi muore gente un disastro poi ci fanno vedere le schiave propriete stuprate che vengono fatte scomparire vengono vendute e tutto quanto l'unica parte un mi cioè l'unica parte da cui inizia poi a diventare più o meno come possiamo dire non è neanche comico comunque inizia a diventare strano è quando lei inizia a fare le vocine per aprire le celle letteralmente al minuto 21 e 30 quindi voi mi volete dire ah vabbè ma al minuto 21 e 30 si capisce che non è un anime serio ma che cazzo vuol dire ma se per 21 minuti è stato serio poi di punto in bianco ah vabbè dai si capisce ma che cazzo state a dire no non è che si capisce l'hanno fatto diventare di merda così di punto in bianco hanno detto vabbè sa che c'è famo sta cazzatina però ma non è che giustifichiamo sta cosa non si capiva tanto non è un problema no sinceramente a me ha fatto un po' cacare questo risvolto di punto in bianco cambiare il tono dell'anime da serissimo perché era serissimo più o meno a sta cazzatina della voce poi lui che esce in questo modo quindi ripeto se prima di vedere questa parte finale pensavo di dargli tranquillamente un set perché in realtà i primi 16 minuti mi sono piaciuti la parte in cui voi avete detto in chat che il protagonista sembra eccessivamente edgy non lo possiamo sapere perché in realtà per ora il protagonista non è che l'abbiamo visto sembra sì il classico di zio vi ucciderò tutti mi vendicherò le solite cose che non è che uno si aspetta troppo però insomma sono pure passati 10 anni non l'abbiamo visto sto protagonista quindi gli avrei dato pure 7 dopo questa parte finale no se gli do 6 è proprio grasso che cola quindi peccato peccato era partito bene non ho capito perché hanno dovuto fare questo finale così in questo modo vogliono fare una roba alla eminence quasi tipo in cui alternano ma non lo so vedremo vedremo comunque sta di fatto che per quanto mi riguarda tutta la prima parte se escludiamo gli ultimi 3 minuti a me è piaciuta è una storia interessante streghe contro umani solita roba che l'umanità sono dei pezzi di merda bastardi che vogliono uccidere tutte le streghe senza un apparente motivo da quello che abbiamo avuto modo di vedere qualità generale caruccia opening ci sta protagonista che dovrà vendicarsi di tutto il genere umano vedremo in che modo si vendicherà comunque le persone mi pare che muoiano quindi il protagonista ha ampia come dire possibilità di manovra per uccidere tutti quelli che gli pare cosa che insomma a me piace è solo che ripeto sto finale con sta tizia con i capelli rosa a me non lo so mi ha un attimo cringiato mi ha un attimo fatto strano perché non lasciarlo vivo a lui che vuol dire non lasciarlo vivo allora da quanto ho capito il protagonista è stato confinato qua dentro forse perché in dieci anni io non credo che da dieci anni fa l'hanno preso l'hanno ficcato in questa capsule e ci è rimasto per dieci anni io credo che l'avranno magari tenuto un po' prigioniero poi avranno visto o l'hanno liberato e si è comportato male e l'hanno ricatturato oppure avranno visto che non c'era proprio modo di farlo ragionare e quindi l'hanno tenuto prigionato per dieci anni ma non credo sempre qua dentro poi potrebbe pure essere che è magari troppo potente non abbiamo comunque ancora visto qual è la magia del protagonista quella roba della penna quindi non lo so è da capire un attimo cosa che ha fatto in questi dieci anni il protagonista vabbè che pure prima tra pure prima trama di inizio uguale alla metà delle opere di questo tipo gonfiato di spari tette vendetta gorr non gli avrei dato la sufficienza manco prima dell'opening e figurati ma io no io gliel'avrei data io in realtà gliel'avrei data poi per carità questo è appunto il classico anime che può tranquillamente sfociare nel leggi un po' eccessivo se il protagonista è insomma il classico protagonista un po' così però ripeto dopo anche sto finale qua non mi ha convinto non mi ha convinto io voglio credere che non sia stata lei ad aprire le celle potrebbe essere potrebbe essere anche effettivamente non lo sappiamo però insomma da quello che abbiamo visto in questi ultimi minuti mi pare di sì mi pare di sì The Kingdom of Ruin io vi dico un 6 meno per quanto riguarda il primo episodio cioè l'ho preferito a Beat Sensation perché Beat Sensation mi ha annoiato infatti forse potrei pure dare un voto un po' più basso a Beat Sensation ma non mi ha convinto neanche questo quindi 6 meno è un voto più che onesto per quanto mi riguarda per un totale di 6,11 poi in realtà parliamoci chiaro per ora cioè alla fine una storia di vendetta in che modo funziona bene in due modi uno se il protagonista è un protagonista degno di tale nome che riesce a portare avanti la vendetta in maniera sensata o comunque se si comporta in maniere come vi ho detto pure voi non troppo edgy e in secondo luogo se questa vendetta viene applicata in maniera decente ad esempio Riduoviler era una roba a metà cioè in parte effettivamente è stata una buona storia di vendetta però poi è andato totalmente a puttane nel momento in cui il protagonista ha deciso di stuprare tutti senza un apparente motivo dopo essersi vendicato all'inizio mettiamola così secondo me come primo episodio non è neanche così disastroso se escludiamo il finale però guardate potrei pure provare a continuarla per conto mio per vedere i primi tre episodi perché magari è una cosa all'Eminence magari nei prossimi episodi si aggiusta un po' capiamo meglio come mai è passato da sta serietà a sta parte finale un po' strana quindi potrei magari pure provare a vederlo però per quanto riguarda il portarlo in live posso dirvi non un grandissimo inizio perché abbiamo avuto un 7 e mezzo un 5 e mezzo che fa 13 e un 5 e 75 che fa 18 e 75 quindi 18 e 75 diviso 3 la media della prima serata è stata 6 e 25 una prima serata veramente infima però posso dirvi una cosa sono molto contento per Shangri-La Shangri-La non me l'aspettavo che sarebbe stato così bellino 16 bit vabbè 16 bit non mi aspettavo veramente niente mentre Kingdom of Ruin ecco Kingdom of Ruin è stata un po' una delusione quindi da una parte Shangri-La mi è piaciuto di più di quanto pensassi Kingdom of Ruin avevo un minimo di aspettative dopo aver visto il trailer un po' la trama e invece no si è rivelato abbastanza una cazzatina che